Signor Neto, quanti anni ha? 91 Mi raccontava che lei ha lasciato la scuola abbastanza presto Purtroppo per ragioni di lavoro, io famiglia numerosa ho dovuto andare su e mio papà mi è andata a lavorare, pur andando bene a scuola purtroppo però mi sono fatto la vita per conto mio, nel senso ho frequentato l'università terriera L'università della strada, come diceva prima Perfetto, oggi torna a scuola Oggi torna a scuola, più che altro per misurare me stesso quante cose posso apprendere mi restano nel mio cervello Che sensazione è tornare sui banchi di scuola? Le dirò, per me è in parte una sorpresa dal punto di vista e poi, come ho detto prima, per scoprire me stesso per trovare un altro modo oppure qualcosa di diverso della vita che faccio da pensionato che faccio da pensionato Grazie a tutti.